ciao a tutti oggi sono a roma sono venuto a potare un olivo peraltro anche bello perché un olivo secolare vedete ha un bel tronco c'è qualche problemino ma poi ne parliamo dopo come vedete oggi farò una cosa che non andrebbe mai fatta ma non potevamo fare altrimenti poi vi spiegherò come mai e ho per potare l'olivo solo questa la mitica forbice vesco oggi sono in questa bellissima villa con mauro eccomi e complimenti grazie grazie per la scala sì me l'hai data veramente come sono sinistra sì sì c'è una collezione questo è un esemplare unico in realtà di questo tipo di scala anche la villa bella però l'abbiamo messa di contorno alla scala a me non dispiacerebbe come situazione diciamo abitare in una situazione di questo tipo come ti trovi tu è molto interessante diciamo che è impegnativa perché sono più di 320 metri di casa impegnativa però entrando qui non tornerei mai più in un appartamento perché gli spazi sono veramente grandi campo meglio sì sì anche a livello energetico si sta veramente bene ma l'hai sempre avuta da cosa è uscita no no è da un annetto che siamo qui esci da fuori da dalla mia attività di network marketing che mi ha permesso e mi permette di mandare avanti questo tipo di realtà l'ho sempre sognata la volevo e poi ho lavorato solito e ho capito come funzionava un po il denaro il network marketing le entrate passive quindi grazie a questo è possibile è un po come il vaso policonico no quando tu ora non sai cos'è però quando poti l'olivo che non riesce a capire come fare a gestirlo poi trovi la forma giusta di allevamento e quello cresce nel modo giusto non ho capito nulla di quello che hai detto ma mi fido cioè l'hai detto molto bene facciamo un patto io ti spiego il vaso policonico te mi spieghi come c***o fare a va bene va bene ha giudicato ti va di fare un video dove ci spieghi un po assolutamente va bene allora facciamo così ora iniziamo a portare poi vi lasciamo se ti va un link in descrizione così vi facciamo capire vi diamo due consigli cioè tu più che altro qualcosa vediamo se qualcuno è curioso di capire allora se siete curiosi vi lasciamo un video in descrizione ora iniziamo a portare che mi devo arrangiare con la scala non sono abituato allora intanto osserviamo un po ho già preparato la scala osserviamo un po questa pianta è portata diciamo a vaso libero quindi non la stravolgeremo ovviamente anche perché è impossibile anche perché comunque ha un aspetto non credo Mauro che tu ci raccolga le olive no non raccolgo le olive ok ha un aspetto se no faccio una bruschetta e basta qua ha un aspetto cioè un aspetto ha una funzione ornamentale mi sembra evidente guardandolo un po intorno ho notato che un ramo è seccato o sta seccando quindi poi magari metterò lì la scala e vediamo un po cosa possiamo fare c'è ancora qualche fogliolina sembrerebbe è mica venuto del freddo 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 questo inverno gli inverni precedenti questo no perché sembrerebbe quasi potrebbe essere quasi un danno da gelo però ma c'è sempre negli ultimi tempi è seccato di ultimo è sempre stato ora lì non me ne sto accorgendo adesso tu che hai l'occhio clinico però non l'avevo mai notata questa parte per ramolino perché dietro forse quando entri passi di qua comunque male che vada ce ne sono già pronti sotto a ricrescere c'è anche un ramo che forse si è spezzato vabbè cosa facciamo in questi casi andiamo semplicemente a gestire un po qualche succhione troppo vigoroso a dare un equilibrio generale della pianta in modo che non ci sia una branca che prenda troppa troppo volume rispetto alle altre in modo da creare un'armonia che già comunque è abbastanza armonico quindi non occorrerà fare tantissimo però vediamo non ho gli attrezzi telescopici lo ripeto quindi voi non fate assolutamente quello che faccio io oggi l'importante è il concetto quindi vi faccio vedere cosa fare voi fatelo da terra ok non potevo portarmi a Roma gli attrezzi non mi ci stavano oggi in macchina quindi ho provato questa è così allora da dove partiamo bisognerebbe partire dalla dalla parte centrale quindi provo a mettere la scala contro il tronco e come facevo ai vecchi tempi perché quando iniziato a portare in realtà sbagliavo e c'entravo dentro così e quindi proviamo a vedere un po cosa succede obiettivo sopravvivere poi ok allora questi rametti quali lasciamo quelli che puntano all'esterno perché comunque eventualmente possono nel tempo ricreare una branca laterale e comunque danno un po di volume ecco mentre andiamo a togliere magari quelli che puntano più verso il centro mi scuserai Mauro ma oggi non ti posso fare lo smaltimento no va bene provvederò in un altro modo lo farà il tuo sardiniero o te li metto in macchina di nascosto prima che te ne vai tanto la macchina di ariana quindi allora quindi qua semplicemente come vedete andiamo un po pulire qualche rametto centrale lasciando quelli esterni ok da questo lato più o meno ci siamo ora continuo a salire allora abbiamo non so se si vede ad esempio qua un succhione abbastanza vigoroso che punta verso il centro quindi questo lo togliamo chiaramente anche se è una potatura ornamentale e teniamo presente la salute della pianta quindi assolutamente non togliamo evitiamo di togliere tutti i succhioni sul dorso perché sennò poi dissecca l'interno cioè dissecca al dorso perché come sapete non passa più la linfa ora c'è ancora qualche succhione un po vigoroso al centro chiaramente questa pianta è stata trasportata qua e per farlo è stata diciamo capitozzata come potete anche vedere quindi ora il volume della pianta o meglio il rapporto per un diciamo per un tronco così grosso c'è poca chioma quindi la pianta comunque produce tanti succhioni per tentare di riequilibrare questo rapporto ora continuo a salire un po sono all'ultimo gradino più di così non posso allora mi tolgo ancora qualche succhione che mi va verso l'interno perché comunque vedere l'interno libero è carino ecco poi ce n'è qualche d'uno sull'altra branca che punta all'interno ok vado a togliere solo quelli più grossi ce n'è uno molto grosso e vuoi darmi la videocamera davide così faccio vedere un attimo l'interno faccio anche da faccio anche da cine operatore da operatore video allora vedete questo questo è un rotazione grosso centrale verticale non ce ne facciamo niente qua ce ne sono altri ora questi li vado a togliere quella lì è la zona diciamo dove sta seccando un po quella branca anche di qua vedete quanti ce n'è centrali quindi ora mi occupo di fare questo lavoro qua lo svuoto un po al centro ciao ciao Allora, diciamo che per quello che potevo fare oggi ho fatto, come vedete ho tolto più che altro dei succhioni, ho liberato un po' il centro e diciamo che se avessi avuto gli attrezzi telescopici potevo rifinire meglio un po' le cime, ma per oggi ci accontentiamo così. Come vedete la pianta ha un po' di cicloconio, un po' di occhio di pavone, quindi qua con un trattamento a base rameico si va un po' a preservare soprattutto quei nuovi germogli, visto che ora è il periodo. E che altro dire? Un bel tronco, questo olivo qua è un bel aspetto anche monumentale, quindi è giusto prendersene cura. Chiaramente vedete che la struttura è un po', cioè non è un vaso policonico, ma l'abbiamo detto, è un vaso libero, quindi ci sono più strutture in questo caso, più branche primarie, proprio perché lo scopo non è quello di gestire la pianta al meglio dal punto di vista della velocità di potatura e di raccolta, ma creare una cosa armonica. E diciamo che a parte quella parte un po' secca dietro, ci siamo, ecco così, un aspetto, a me, cioè quelli che fanno gli olivi a ombrello, tutti che vai contro la natura dell'olivo, nemmeno per aspetto ornamentale lo accetto, diciamo. Questo è simile alla forma naturale dell'olivo, che sarebbe più chiusa all'interno, più a globo, ma è una forma che secondo me è corretta anche in un contesto di questo tipo. Quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo a presto con altri video. Ciao! Questa somma di queste cose ha fatto sì che otto anni fa mi sono trovato con 300 miliardi di debiti, uno sfratto esecutivo in corso. Grazie a tutti! Grazie a tutti